E' un preservativo? E' uno. E ma tu ieri? L'hai provato. Com'è? Racconta. Vado un attimo in bagno. Non ti preoccupare, ce l'ho io. Tranquillo, ce l'ho io. Ma dove? Dove avrà nascosto il preservativo la nostra amica? Nel reggiseno? In bagno? Oppure ce l'ha già infilato nella vagina, visto che utilizza un Femidon? Avevate indovinato? Eh sì, stavolta ci ha pensato lei. Femidon, pensaci tu. Sì, stavolta ci ha pensato lei.